Io sono Guzman, la distruzione è fatta a persona. Questa è la fase di entrare al leader del team Scudo durante l'ultimo trailer di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Una fase che mi ha fatto davvero tanto riflettere in questi giorni sul possibile obiettivo di questo particolare team malvagio nei prossimi giochi Pokémon. Parto dicendo che questa organizzazione criminale mi ricorda molto il team Rocket, anche se il team Scudo non è un team vero e proprio. Infatti lo vedo più come una specie di gang o clan, come si può vedere, anche dal tatuaggio presente sia su Plumeria sia sul boss Guzman. Il fatto che mi ricorda molto il team Rocket è abbastanza romano dato che solo l'una escono proprio nell'anno del ventesimo anniversario Pokémon. Perciò una specie di tributo al famosissimo gruppo di Kanto non mi sorprende più di tanto alla fine. Inoltre, sul sito ufficiale Pokémon ci viene detto che questo team si è fatto conoscere in tutta la regione dell'ora per i vari furti di Pokémon altrui, proprio come il team Rocket nella regione di Kanto. Nonostante tutte queste cose, non credo che il team Scudo si limiterà solamente a rubare i Pokémon, anche perché ormai sarebbe una cosa già vista fin troppe volte, secondo me. Quindi, per capire quale sarà davvero il loro obiettivo, voglio farvi notare una cosa davvero molto importante che ha detto Guzman. Questo ha rivelato nel dialogo con il professor Kukui di non essere mai riuscito a diventare un capitano nel giro delle isole, una tradizione molto importante della regione di Adola. Cosa che potrebbe averlo fatto buon attività fino al punto di progettare la distruzione. A questo punto tutto appare più chiaro e posso finalmente rivelarvi la mia idea di distruzione. Secondo me, Guzman insieme al suo team vuole distruggere la tradizione più importante per la tranquilla regione di Adola, ovvero quel giro delle isole che tanta delusione e tanto odio gli ha procurato, imprendogli di diventare capitano. Secondo me non è così improbabile come cosa, ragazzi, anche perché il giro delle isole verrà messo al posto delle palestre nel sole e luna, perciò sarà particolarmente importante nel corso del gioco. Il problema è capire come il team school deciderà di distruggere la tradizione simbolo della regione. E per questo motivo ho due ipotesi da esporvi. Nel primo caso vediamo un team school impegnato nella distruzione del giro delle isole attraverso atti vandalici, come possiamo vedere nei bossi di blocco nella città fortificata, frutti di Pokémon altrui e altre attività criminali. Però questa cosa renderebbe la trama un po' troppo semplice a mio avviso e che avrebbe un altro grosso problema, ovvero i leggendari come verranno usati. Proprio per questo ho pensato di un secondo modello di trama molto più interessante a mio avviso. Questa volta Guzman cerca sempre di distruggere il giro delle isole, simbolo della regione di Alola, ma vuole mostrare la sua forza a tutti quelli che non hanno accaduto in lui e non gli hanno permesso di diventare capitano. E per questo motivo entrano finalmente i gioci leggendari. Guzman vuole servire il potere dei leggendari per sconfiggere i capitani e i Kaun per dominare insieme al suo team l'intera regione di Alola. Potrebbe però anche sottare i leggendari per ribullire completamente la regione di Alola, scatenando qualcosa di veramente terribile per le sorti della povera regione. Ovviamente sarà un compito del protagonista salvare la fiduazione, magari con l'intervento di un altro leggendario, che potrebbe anche essere per esempio Zygarde, risvegliato dalla rottura dell'equilibrio della regione. Mi interessa anche molto sapere quale sarà il ruolo del gioco del professor Kukui e di Lily in tutta questa faccenda. Con il primo, come sappiamo, sembra avere dei rapporti in sospeso, il buon Guzman. Mentre la misteriosa ragazza potrebbe aiutarci a risolvere la situazione, oppure, clamorosamente, potrebbe passare dalla parte dei cattivi. Fino a questo momento, però, con Lily, il team malvagio ha solo una cosa in comune, ovvero l'origine del nome. Infatti, il nome della ragazza deriva dalla pianta del giglio, proprio come i nomi di Plumeria e Guzman derivano da due piante tropicali, ovvero la Plumeria e la Guzmania. Vi faccio però notare che questo collegamento delle piante potrebbe essere solamente una strana coincidenza alla fine, quindi nulla di particolarmente importante. Però, non mi sono dimenticato di un aspetto molto importante per la trama del Sole e Luna, ovvero il tanto avvociferato progetto Azoth, che tanto ha fatto discutere gli appassionati di Pokémon. Il buon Alfred Kamon, in un suo video analisi, mi ha fatto ricordare la somiglianza di un'immagine presente nel libro di Azoth, con il logo del Team School. Beh, come vedete, il logo del Team School, apparentemente senza significati particolari, potrebbe riprendere questa immagine, dove un leone e una specie di fenice formano il simbolo dell'infinito, con all'interno il Sole e la Luna. Ma, cosa significa tutto ciò? Quale terribile minaccia incombe sulle ragioni da Lola a caso del Team School? Ma, soprattutto, la domanda è questa. Quale terribile potere vuole scatenare il Team School, quindi quale potere vuole risvegliare? Beh, è ancora presto per dirlo con esattezza, ma sono sicuro che nei prossimi trailer, quindi nei prossimi mesi, avremo qualche importante informazione al riguardo, che ci aiuterà a capire come stanno realmente le cose e quale teoria, alla fine, si rivelerà a essere bella. Nel frattempo, possiamo solamente speculare e creare una bella discussione qua sotto nei commenti, ragazzi. Quindi, io vi invito a commentare, appunto, con la vostra opinione su quale sarà il reale scopo del Team School nei giochi Pokémon Story e Pokémon Luna, e vi lasciate un bel piaccio se tutto ciò vi è piaciuto, se questa raccolta di teorie vi è piaciuta. Quindi ragazzi, per oggi da Rochette è tutto, un saluto, buona domenica e ovviamente, bye bye!